Uomini e donne, prossime registrazioni venerdì e sabato 4 febbraio, Ida possibile ospite. Mancano pochi giorni e due nuove registrazioni di uomini e donne. Il blogger Pugnaloni ha anticipato che le prossime riprese del dating show saranno il 3 e il 4 febbraio. Giorni nei quali potrebbe accadere di tutto sia nel trono classico che nell'over. Recentemente Maria De Filippi ha avvisato Riccardo che Ida ha chiesto un faccia a faccia con lui, Platano. Dunque, potrebbe essere ospite di almeno uno degli appuntamenti previsti nel weekend che arriverà. I fan, però, si aspettano anche una scelta, Federico e Lavinia potrebbero concludere il proprio percorso facendo il nome della persona con cui vogliono fare coppia. Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che è stata registrata il 28 gennaio. Hanno spiazzato i fan, Federico e Lavinia non hanno scelto, Biagio ha ricevuto altri schiaffi da Carla. Roberta ha conosciuto i due nuovi corteggiatori, Alessandro ha chiuso con Pamela e Riccardo ha avuto un importante avviso. Maria De Filippi ha informato il Cavaliere del Trono Overcade ha contattato la redazione per chiedere un confronto con lui. La parrucchiera ha reagito male alle dichiarazioni che Guarnieri ha rilasciato al magazine del programma sia su di lei che sul compagno Alessandro. Per questo ha richiesto un confronto in studio il prima possibile. Questo faccia a faccia potrebbe avvenire in una delle due registrazioni previste nel prossimo weekend. In queste ore i fan di Uomini e Donne hanno scoperto quando ci saranno le prossime registrazioni, il blogger Pugnaloni ha usato i social network per far sapere che i cast si riunirà agli Elios venerdì 3 e sabato 4 febbraio. Nella settimana che è appena cominciata, dunque, è previsto un doppio appuntamento con il dating show che da anni regala Ascolti Record a Canale 5. Vista l'anticipazione che ha dato Maria la volta precedente, è probabile che Platano sia ospite di almeno una delle due puntate in programma tra qualche giorno, a fare maggiore chiarezza a riguardo. Saranno gli spoiler che trapeleranno dagli studi al termine delle riprese. Sempre Pugnaloni ha fatto sapere che sabato scorso Federico Nicotera ha informato le sue corteggiatrici che non manca molto alla sua scelta. Quindi potrebbe comunicare il nome della sua preferita tra Carola e Alice proprio nel corso delle riprese previste nel prossimo fine settimana. Anche il percorso di Lavinia nel dating show è agli sgoccioli, la ragazza sta cercando l'amore in tv da settembre e presto dovrebbe dire se intende fare coppia con Alessio Campoli oppure con Alessio Corvino. Ancora non si sa se dopo le scelte dei due tronisti storici del cast ne saranno presentati altri, una decina di giorni fa è stato intanto ufficializzato l'arrivo nel trono classico di Nicol. Una manager 29enne di Roma, ha la sua prima esperienza in televisione. Ancora non si sa se dopo le scelte dei due trono classico di Nicol. Ancora non si sa dopo le scelte dei due trono classico di Nicol.